La pandemia non ha permesso alle coppie di organizzare un grande evento, magari al ristorante o semplicemente a casa, con tanti amici e parenti. Ma ciò che conta per loro è l'amore reciproco, che nonostante le difficoltà dura da tanto tempo, a volte sin dall'infanzia. Il 26 dicembre tre coppie residenti a Fano hanno festeggiato 60 anni di matrimonio. Nozze di diamante per Sergio Sartini e Marzia Cinotti, Mario Canestrari e Verbena Romagnoli, ma anche per Gina Brega e Gaetano Malospirito. Domenica invece, Pia Peretti e Zanetto del Vecchio di Lucrezia hanno festeggiato 50 anni di matrimonio. Nozze d'oro ieri anche per Elsa e Bruno Lucarini di Lucrezia di Cartoceto. Nozze di diamante invece per una coppia di Fano, Elio Maggiori e Elena Frattini. Un traguardo di vita importante, un esempio per tutti. Auguri!